Ci siamo ancora? Avevo dimenticato la macchina con le quattro frecce, quindi ci vedete dopo sarvi una spinta. Avevo dimenticato la macchina con le quattro frecce, quindi ci vedete dopo sarvi una spinta. Magari c'hai anche Blast Crazy Man, non ce l'hai? Fantastico, fantastico! Crazy Man! Ma io sono un po' questa di me. Grazie! La pezzo è buone! E' una serata così, non so quanti anni, io non me la ricordo. Io sono qua solo da 20 anni e non me la ricordo. Se c'è qualcuno più anziano, magari quando veniva Musiani. Eh, quando veniva Musiani. Però i tempi sono cambiati ragazzi, bisogna andare avanti.